Proviamo insieme un kit per fare da solo gli squishy arrivato da Wish pagato tipo 5 euro Vediamo insieme com'è, non ho buoni presentimenti ma prima di vederlo, sigla Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video, come state? Spero tutto bene Come avete passato la vostra giornata? Spero bene Ciao amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovo video dove andiamo a provare un kit per fare da solo gli squishy, colorarli, glitterarli, squisharli eccetera eccetera Come potete vedere dalla scatola che è un po' malandata e maltrattata, mi è arrivata dalla Cina da Wish e avete sentito dall'intro che l'ho pagata 5 euro quindi pochissimo Ce l'ho da un po' Prima di iniziare il video, intanto la vado ad aprire insieme a voi, prima di iniziare il video mi raccomando pollice in su, iscrivetevi ed attivate la campanellina Così che voi possiate sempre restare in contatto con me tutti i giorni alle 14.30 Oh oh Alle 14.30 Facciamo un giochino, il giochino di oggi è indovinare la parola misteriosa La parola misteriosa di oggi è questa Vediamo, 3, 2, 1 Cosa troviamo in questa scatola? Troviamo tanti squishy, vi devo dire la verità non me l'aspettavo così tanti squishy Squishy gelato, ok? Come vedete sono bianchi perché noi li dobbiamo andare a decorare con tutte le cose che ci hanno messo all'interno E questa è una torta a forma di cerviatto Poi c'è un panino gattino Uno squishy panda Un narvalo praticamente E c'è un unicorn Bellissimo Sono anche abbastanza grandi come squishy Abbiamo un piattino I colori Per l'appunto ci servono per colorare gli squishy Dei pennelli, tanti pennelli, dai grandi ai più piccoli Questi strass, tutti colorati Questa è la colla, penso, per attaccare gli strass Poi ci sono solo i glitter oro Non capisco perché Degli sprinkles Questa cosa ci piace E queste che sono tipo delle scagliette di cioccolato finte Ok, allora Vediamo un pochettino qua sopra Qua ci fa vedere come in teoria potremmo fare Allora, qua c'è la tabella del mixing Quindi di come possiamo mixare i colori per far uscire altri colori differenti In realtà qui Addirittura mi portava Che c'erano dei pennarelli Ragazzi Ma i pennarelli Non ci sono Non stanno Painting it up No, non c'è più niente ragazzi Io vorrei scegliere con voi per l'appunto questo gelato Che Raga, mi sa che per colorarlo ci vorrò un bel po' Più che altro Vediamo, magari poi gli altri li possiamo fare O in uno short oppure su TikTok Infatti seguitemi anche sui miei social E andate a visitare il mio sito Ok, allora Che cavaletti Vabbè Allora, andiamo ad aprire Per l'appunto i colori Scaravoltiamo Sono molto belli Io spero che siano anche molto Aderenti Cioè nel senso che attecchiscono Appunto Allo squishy Allora, prima di tutto Prendiamo il nostro piattino E dentro ci andiamo Ok ragazzi Non esce già Iniziamo male Allora, andiamo ad aprire direttamente Che facciamo prima Allora, vi posso dire una cosa raga A me sembrano Sembrano degli acrilici Allora Quindi Che dobbiamo fare adesso Prendiamo un pennello Così Andiamo a prelevare un po' di colore Marrone E giallo Ovviamente E andiamo a mescolarli Adesso La cosa che dobbiamo iniziare Prima a colorare È il cono Guardate Ok Allora Per colorarlo Insomma Allora, vi posso dire la verità ragazzi Vi voglio far vedere bene Allora Non vi abbassare la videocamera Perché Il fatto che l'abbia pagato 5 euro Probabilmente Ho capito anche il perché Allora Vi voglio far vedere come i colori Non Prendono bene sullo squishy Ragazzi Guardate Io gli faccio una passata Ora può darsi pure che devo farlo asciugare E poi Io ne faccio tipo altre 3, 4, 5 miliardi Molto probabilmente Allora Sto facendo una passata di colore Che ho creato Io Mettendo il marrone Ed il giallo Come Passando il colore Quest'ultimo Faccia Si ritiri Praticamente E diventa tutto A chiazze A macchie Cioè Ma tutto bene Devo dire che dopo 3 passate Lo squishy È anche decente Però vi voglio far vedere Una cosa Allora Vi voglio far vedere Le imperfezioni comunque Dello squishy Perché alla fine Ho notato che qui È spaccato Che in alcune parti È un po' rotto Che comunque Non si riesce a colorare In maniera uniforme Però Per far prima L'ho asciugato Con il phon E devo dire E devo dire Che non è neanche tanto male Fa anche un suono Molto gradevole Allora Adesso Questa è la parte del cono Che non è neanche tanto male È venuto uguale Alla fotografia Questa parte qui Me la da gialla Però Io Non la voglio fare gialla Ma la voglio fare rosa Perché io qua sopra Dovete sapere Che ci voglio mettere Tipo Gli sprinkles Tutto torno torno Cosa voglio fare Lo voglio far asciugare Poi ci metto la colla Che è questa qua Sta colla qua E ci voglio mettere Tutti gli sprinkles Perché sì ragazzi È un gelato E quindi lo voglio riempire Di sprinkles E dopo sarà ancora più difficile Perché la faccia Dello squishy La dobbiamo disegnare noi Quindi sarà ancora più complicato Questa parte qui Deve essere bianca Poi questi ci sono I ciuffi colorati E lo vado a fare Dei vari colori In realtà è azzurro Giallo e rosa Quindi li vado a fare E poi il cono dell'unicorno È giallo Ma io lo vado a fare Comunque poi glitterato Perché non lo porta glitterato Ma io lo voglio fare Come voglio io Oh Però dai Al momento Non è affatto male La parte più complicata Sarà Fare la faccia La parte Diciamo gelatosa L'ho colorata Vabbè Devo dire che non è affatto male Allora Adesso Volevo fare anche L'azzurro Blu azzurro Eccetera Come cavoletti Lo vogliamo chiamare Comunque Andiamo a mischiare Il blan Il blan Il blanco Oh sì Vabbè Blanco Il blanco Ed il blu Il blanco Ed il blu Ed andiamo a creare Blu celeste Andiamo a creare Per l'appunto L'azzurro Guardate No mi piace No mi piace Allora ragazzi Ecco qua Il mio squishy Ci manca Solamente La faccia Allora È molto morbido Vi devo dire la verità È venuto anche molto bene L'unica cosa Che vi devo dire È che Nei colori Dello squishy Non c'è il nero E io come la faccio La faccia Non lo so come la faccio Va bene Allora Vado Prima a vedere Se riesco Ad attaccare Con la colla Mamma mia raga La colla è veramente Molto 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 densa Mamma mia Ok Vado ad aprire Gli sprinkles E Vediamo di Versarli Lì sopra Aspettate Oh mamma Ok Ok Non attecchiscono Molto ragazzi Questi sprinkles È tipo come La colla a caldo Più o meno Quindi Oh mamma Però più o meno Qualcosa è riuscito Lo devo andare a fare Almeno sulla parte davanti Dello squishy Anche se non sta Cioè Non è Propriamente perfetto Però almeno Degli sprinkles Ci sono E sono stati messi sopra Allora In sostanza E nel totale Lo squishy Non è neanche Tanto male Ok Adesso però Siccome non ho Il nero E non so come farlo A meno che io Non lo faccia Col pennarello Devo creare la faccia Con il marrone Oh è carinissimo Guardate Sì È super cute Yeah Guardate Che carina Devo fare anche Le guanciotte rosa Quindi Facciamo Le due guanciotte No vabbè No vabbè Raga Ok Penso che questo sia Lo squishy Più carino Che io Abbia Decorato Con un kit Comunque Che costa poco Sostanzialmente Da wish Perché alla fine Raga Cioè Dai Dai Non è brutto Guardate È molto 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 Carino È venuto Anche Molto Molto Bene Mi piace Davvero Tantissimo La faccia Con il marrone Ci sta davvero Benissimo Cosa dite Per essere uno squishy Decorato con un kit Da 5 euro Non è male I pro E i contro Di questo kit Pro Che comunque Ci sono un bel po' Di cose Per decorare E ci sono quindi Gli sprinkles Colori Glitter Eccetera I negativi E che alcuni colori Non escono E che Devi fare Tipo 3 o 4 passate Sullo squishy Perché ci sono un sacco Di buchi E i colori Non attecchiscono Subito Sporca un botto Quindi Diciamo che Ci sono i pro E i di contro Però in questo caso Dai I don't say Grazie mille a tutti Per aver visto questo video Spero che vi sia piaciuto Intrattenuto Strappato un sorriso Come sempre Lo voglio tanto bene Vi mando un bacione Ed un abbraccio E noi ci vediamo domani Con un nuovissimo video Ciao amici